E siamo a un altro capitolo della complicata storia di Villa Mariani, casa e atelier di uno dei più grandi artisti dell'Ottocento. Un disegno di Degas fra le opere poste a garanzia di un mutuo e sparite dalla banca che le custodiva, è ufficialmente ricercato dall'Interpol. Da Bordighera, Tarcisio Mazzeo. Questi sono gli olivi di Monet, che Monet dipinse nel 1884 qui a Villa Mariani di Bordighera. Dovrebbe esserci anche un disegno di Degas e invece quello è sparito, è ufficialmente ricercato. Carlo Bagnasco, curatore di Villa Mariani. Oltre a questo quadro sono stati rubati anche degli importanti gioielli appartenenti alla mia famiglia e delle monete d'oro, sterline, pesos messicani, eccetera. E adesso cerchiamo con tutte le nostre forze di recuperare una parte almeno di questo patrimonio e ci affidiamo appunto alla magistratura sia penale che civile. Il caso Villa Mariani è una storia che TGR Liguri ha seguito dall'inizio. Era il 2010 quando un mutuo contratto da Carlo Bagnasco con Anton Veneta per finanziare il restauro della casa, con il passaggio da Otto Veneta a Montepaschi diventò un debito da saldare immediatamente perché i beni a garanzia, 20 kg d'oro, gioielli, quadri preziosi fra i quali il Degas, erano spariti dal cavo della banca, da qui la denuncia del furto solo di recente ascoltata. Intanto tutto questo finì all'asta e per evitare che finisse a chissà chi l'unica soluzione fu un altro micidiale mutuo da estinguere in pochi mesi. Siamo riusciti ad evitare l'asta pagando 62 mila euro mensili, avevamo parecchie opere d'arte, le abbiamo dovute anche svendere per riuscire a pagare queste rate e a salvare Villa Mariani dalla vendita all'asta. Villa Mariani era stata stimata a 16 milioni di euro. In casa è in corso l'inventario e quando si fa l'inventario sul tavolo finisce di tutto. Per esempio il Cowboy è un'opera di Remington, importantissimo, pittore e scultore americano, naturalmente dell'Ottocento e guardate un po' che cosa c'è su un altro tavolo, il tavolo della stanza ovale del Presidente degli Stati Uniti, anche sul tavolo di Donald Trump c'è il Remington, il Cowboy di Remington. Insomma, le sorprese a Villa Mariani non finiscono mai.